Qual è il mio PC? Ma utilizzare poi per eseguire effettivamente le cose che ho sviluppato un PC diverso dal mio. Ogni volta, anche se mi impegnavo, facevo i miei script di provision, così rimettevo le librerie come erano prima, questa cosa non funzionava mai. Ogni volta andavo sulla macchina con le GPU e mi schiantavo puntualmente. Quindi, se vi interessano le slide, sono a quel link là. Allora, inizierei con una breve storia triste per descrivere il problema. Bob è uno sviluppatore e scrive codice. Condivisce del codice con la sua amica Alice. Qualcosa va male. Magari se non usava Windows, già eravamo... era più facile funzionare, però... Ovviamente... Scatta la fatidica frase che tutti avremmo detto nella vita, almeno una volta. Ovviamente non basta far felice Alice, che sa essere convincente. Quindi Bob decide di andare a guardare che cosa succedeva sulla sua macchina. Quello che succedeva era questo. La macchina non funzionava perché i binari erano messi bene, ma perché sulla macchina di Bob c'era un muro che permetteva al treno di seguire i binari. Quindi, stanco di dover osservare cosa succede nella propria macchina, Bob trova come soluzione Docker. Quanti di voi conoscono Docker? Ok, tanti. Bene. In realtà mi soffermerò un pelino di tempo su cose Docker e un pochino su come funziona sotto. Questo è importante perché, secondo me, più della scelta di Docker o di Vagrant su qualche virtual machine, è importante capire perché l'ho scelto, quali sono i vantaggi, ma soprattutto quali sono gli svantaggi. Perché magari uno ascolta, ah, bello, bellissimo, lo uso subito, e poi nella sua situazione non fitta. Quindi è importante, secondo me, dare un'occhiata a quello che succede sotto. Cos'è un container Docker? Quindi, immagino, lo sappiate tutti. Poco male in due parole, andiamo subito avanti. Qualcuno potrebbe dire, ah, allora è uguale alle macchine virtuali. In realtà abbiamo due scenari di macchine virtuali. Analizziamo il primo. Nel primo, l'hypervisor della macchina virtuale, cioè quello che traduce istruzioni macchina, si trova sopra il sistema operativo. E questo sembra identico al caso di Docker. Quindi, prima avevi l'hypervisor, adesso hai il Docker engine. Anzi, il Docker engine sembra anche peggiore, perché l'hypervisor ha anche un binding su alcune istruzioni hardware, mentre Docker no. Quindi sembrerebbe peggiore, però in realtà il vantaggio c'è in quello che vediamo che manca. Cioè, ogni macchina virtuale replica un Linux kernel e un hardware. Replicare questa cosa costa. Non è gratuita. Su Docker, invece, questo non avviene. Quindi, anche avendo più macchine, non dobbiamo replicare un sacco di cose. Risparmio in prestazioni, in velocità di esecuzione. L'altra cosa con cui ci dobbiamo confrontare è quando l'hypervisor effettivamente è messo direttamente sull'hardware. E quindi non c'è il sistema operativo. In effetti, anche qui, potrebbe sembrare meglio allora dire, allora passo le macchine virtuali, perché comunque ho uno step in meno da fare. Però, finché restiamo su un solo container o su un numero basso, cioè di macchine create sulla stessa piattaforma, in effetti l'hypervisor è più veloce in questa configurazione. Però, se invece queste applicazioni iniziano a diventare tante, magari sono come oggi è tipico fare un sacco di microservizi, il microservizio occupa poca prestazione e finiscono un sacco di microservizi sulla stessa bar metal, diciamo. In questa situazione, allora, è meglio evitare di replicare il sistema operativo n-volt. Bene, allora qualcuno che magari conosce più a fondo le cose, perché non uso LXC? Che è il sistema, per chi non lo sapesse, è il sistema built-in in Linux per fare container. Prima di Docker, in Linux già potevano esistere container. E in effetti Docker è nato come uno strato in più sopra LXC. A questo punto, Docker poi si è evoluto e ha iniziato a usare delle funzioni built-in in Linux. I namespace, cioè c'è ben poco da dire. Cgroups, qui iniziamo a vedere una cosa che con le macchine virtuali potremmo fare, con Docker no. Per esempio, in dev potremmo aver bisogno di far credere alla nostra macchina che ha 40 giga di RAM. Magari noi non ce l'abbiamo veramente. Però, per far andare particolari check o fare un test su delle cose, potrei dire alla macchina guarda, tu hai 40 giga e con una macchina virtuale posso. Al massimo, quando li uso, magari mi cresce il PC, però glielo posso far credere. Qui non posso, posso soltanto ridurgli la RAM che utilizza. Non posso fargli credere cose strane, purtroppo. Però, se non siamo in questa situazione, poco male. La cosa su cui sfrutta tutto quanto è lo Union File System. Dato che conoscete Docker, magari lo vediamo benissimo negli strati. Sapete che in Docker abbiamo tutti gli strati. Ogni riga che scriviamo nel Docker file è uno strato che viene cacheato. Cos'è che viene cacheato? Il file system. In sostanza, quando facciamo from Ubuntu, esiste un file system su tutto quello che serve per Ubuntu. Quando noi facciamo run, per esempio, apt install di qualcosa, come secondo strato, quello che succede è che lo strato precedente rimane in sola lettura. È un file system in sola lettura. Il nuovo strato crea un nuovo file system che si sovrappone a quello sotto. Quindi, quando modifichiamo un file, non andiamo a toccare il file system precedente, ma lo creiamo in questo nuovo file system. Poi, tramite lo Union File System, questi due file system si combinano e diventano uno nuovo. Che per la nuova istruzione che faremo sarà in sola lettura. È interessante questo perché mi sono spesso soffermato a dire se l'istruzione che stavo facendo era bene farla lì o farlo in uno step successivo. E capire come è più ottimizzata la build e quindi anche poi la pull del registry. Perché se la build è più veloce, ci guadagniamo anche in pull. Perché dobbiamo scaricare soltanto gli ultimi layer e non quelli precedenti. Questo ci aiuta a capire proprio cosa succede sotto e quindi scegliere cosa è meglio fare. Allora qualcuno potrebbe dire, ah ma in Windows, finora ho usato un sacco di funzioni built in Linux, e in Windows che faccio? Condivido il codice con dice e poi ritorno al problema delle macchine virtuali che sono lente, perdo prestazioni. Quello che succede su Windows, abbiamo due scenari. Se il container parte da una macchina Windows e esistono, mi spiace per voi se succede, è molto più difficile da gestire, però la pipeline è la stessa di prima. Se però a questo punto abbiamo from Debian, quello che succede sulla macchina Windows è che si crea una macchina virtuale Linux su cui far girare le cose. Ah, e allora siamo come le macchine virtuali, perché non ho usato una macchina virtuale? Perché il Linux kernel, per esempio, è, ovviamente essendo una macchina virtuale, potrebbe avere anche l'hardware, anche se usate Windows 10 e scaricate l'ultima versione, mi pare che quella parte riesce a essere bypassata in qualche modo e deve fare soltanto, solo utilizzare il Linux kernel. Comunque, in generale, se io scalassi 10 app, ho il vantaggio che non devo replicare quel Linux kernel nVolt. Quindi se a far girare sul mio stesso PC, magari un H-Proxy con due Nginx, un balancer con due server, riesco a farlo spendendo pochissima RAM e potendo fare i miei test in dev, tranquillamente. Quello che succede su Apple è soltanto la parte a destra, perché non c'è ancora disponibile nessun from Apple. Però anche qua si riesce a utilizzare, forse anche un po' più ottimizzato di Windows, perché anche lì il kernel è molto simile. Bene, finalmente siamo sicuri della nostra scelta, siamo sicuri che nella nostra situazione fitta possiamo condividere il codice con Alice. Ma i problemi non finiscono qua, ovviamente. Alice ci fa una domanda interessante. Se volessi usare TensorFlow, magari con la GPU, com'è che posso fare? Bob sembra avere subito la risposta. Dice, beh, facile, installi nel container tutte le librerie che ti servono e va tutto bene, anche quelle della scheda video. Alice ci fa una bella osservazione. E a questo punto il container diventa custom su quell'hardware. Ho installato CUDA 9, lo faccio girare sul mio PC, che CUDA non ce l'ho, andrà storto, non funzionerà mai quel container. E mi perdo quindi la genericità. Il motivo per cui sto usando Docker. Come si può risolvere questa cosa? Dopo disperarsi, che non è mai il modo giusto di risolvere le cose, ci viene in aiuto NVIDIA Docker. Cosa succede, in sostanza? Si decide di sostituire il Docker Engine. Non usare il Docker Engine standard di Docker, ma usare quello di NVIDIA. Queste cose, questi due engine, possono convivere tranquillamente insieme. Possiamo anche averli entrambi sulla macchina. Ovviamente, se non abbiamo NVIDIA, non possiamo... c'è una scheda video NVIDIA, non possiamo installarlo. Cosa succede, però? Che i container devono essere diversi, purtroppo. Quindi non è così vantaggioso. L'unico vantaggio che abbiamo è che sappiamo che quelli di TensorFlow ci fanno dei container apposta, che vanno su GPU, e non ci preoccupiamo di che GPU ho. Quindi, di quale versione di CUDA installare, perché quella non è compatibile con la mia GPU. Mi risparmio comunque un bel po' di cose di provision in base ai modelli di GPU. ed è importante per Docker, perché un cluster Kubernetes può avere macchine diverse, con GPU diverse. E in questo modo, non mi interessa più che GPU sotto. Basta che riesco a far girare l'engine. Però, appunto, la versione per CPU, nel From, non ha la GPU. Qual è il problema? Che mi tocca gestire a mano due container identici. È una cosa brutta gestirla a mano. Di sicuro, quando aggiornerò uno, mi dimenticherò di aggiornare l'altro al 100%, e quello che vorremmo fare, magari, è fare un file script per entrambi, e cambiargli quel file sotto. Ma così ci perderemmo tutti i vantaggi della build in cui si salva i file system. E non vogliamo questo, perché soprattutto se magari ho il mio server Django che utilizza un'intelligenza artificiale, quando deployo, vorrei deployare, accetto di deployare in minuti di tempo, ma non accetto in dieci minuti di tempo, non li accetto per deployare. Voglio deployare in fretta. E quindi ho bisogno di sfruttare la cache di Docker. Non è che ogni volta che io modifico una parte web del mio server, allora deve ribildare tutto, perché c'è qualcosa che non va. Quindi voglio sfruttare la cache di Docker. Quindi ci è consentito aggiungere layer in più, ma non ci è consentito toccare quelli precedenti con Docker. In questo esempio cambia soltanto il from. la soluzione è un barbatrucco, è utilizzare il precompilatore C. In sostanza il precompilatore C non è intelligente, è veramente stupido. Fa delle bieche sostituzioni di righe con file. Quindi avrò l'istruzione include. Volendo abbiamo anche le variabili, però poco importa. Quello che ci interessa è l'include. E questa situazione scala, perché posso a questo punto avere il mio container GPU e CPU che differiscono solo per poche righe di codice oppure avere anche un container se magari il mio server lo devo mettere sul Docker Hub magari faccio la versione con Debian, la versione con altri sistemi operativi sopra come per esempio c'è la TensorFlow e infatti loro gestiscono la cosa con più Dockerfile. È scomodo a livello di dev, non ci piace. Quindi quello che succede è che scriviamo un file in cui facciamo include di un per esempio common.docker uno per la CPU uno per la GPU e poi nel common ci scriviamo per esempio questo una riga di esempio e quello che succede è che compiliamo in un nuovo Dockerfile quindi passa il precompilatore C e quello che fa è questo ci crea un file è la stessa cosa per la CPU ovviamente il comando è quello ma lo rivedremo allora vi ho mentito in Docker in realtà esiste una funzione per fare questa cosa la funzione è sfruttare gli ARGs posso mettere una funzione una variabile con cui ci scrivo quello e poi nella build faccio per GPU tutto la build normalmente perché ho messa di default e per CPU invece devo specificare meno questa questa cosa qua dice ah allora ci basta questo in effetti nell'esempio che ho fatto qui ci basta questo però ho fatto un esempio facile perché farne uno difficile avrei perso mezz'ora soltanto spiegarlo in un caso reale probabilmente per poter mantenere appunto la cache di Docker potrei essere costretto a dover fare prima delle istruzioni della GPU e nell'altro container quelle per la CPU poi delle istruzioni in comune poi di nuovo delle istruzioni che si dividono poi di nuovo delle istruzioni in comune usando gli ARGs finisce che nel comando di build ci scrivo dei comandi bash e questo inizia a essere dispersivo inizio a perdermi i pezzi il mio codice non è più lineare non riesco più a capire quello che fa solo leggendo il codice devo iniziare a leggere anche da qualche parte un file.sh in cui mi sono scritto la build non riesco più a capire in che punto del file finiscono i run e a me era finito per essere un po' ingestibile questa cosa perché avevo run in giro sparsi in cui installavo cose e quindi la soluzione migliore è ovviamente utilizzare quella che dicevo prima che invece scala al contrario di questa quindi usare il precompilatore C alla fine non ci mette veramente niente costa veramente poco un piccolo accorgimento con Nvidia Docker ancora non sono supportate le versioni di Docker Compose in caso superiore alla 2.3 pian piano le porteranno comunque anche se avete l'ultima versione di Docker Compose è retrocompatibile ancora supportata quindi non ci dà nessun problema a parte che ci mancheranno alcune istruzioni però poco male adesso quindi Bob è contento andiamo a vedere come operativamente l'ho implementato in questo esempio giocattolo per riuscire a non dimenticarmi di fare la build mai cosa ho utilizzato? nel repo poi vi mandorò il link ci sono un paio di esempi uno con il makefile e uno utilizzando Shovel Shovel è un applicativo che se qualcuno usa Rails è l'equivalente di Rake in sostanza un posto in cui io posso scrivere i miei task il vantaggio è che io posso al contrario di fare un spargermi di task con file python e poi mi ricordo quale task fa che cosa posso fare Shovel task lui mi dice tutti i task che ho a disposizione e se ho lasciato un po' di documentazione mi dice anche come utilizzarlo che cosa fa funziona molto bene quando si lavora in team che magari un task è stato scritto da un altro del team magari prima ancora che noi arrivassimo in azienda non sappiamo cosa fa dobbiamo cercare la documentazione chissà dove sta tutto lì e se lo utilizziamo un gestore dei task è comodo scala in sostanza quello che succede andiamo a vedere partiamo dal main che è un esempio stupido e quindi abbiamo un addestramento di una rete facilissima sul data mnist e infine facciamo un evaluation ovviamente abbiamo un file requirements per le librerie abbiamo in dei docker source in cui abbiamo la versione cpu e la versione gpu che come abbiamo visto di là fanno solo il from e l'include quindi la versione gpu è uguale a parte che segna gpu nel from e l'include fa questo sceglie una workdir aggiunge i requirement e fa l'install qui iniziamo già a vedere una best practice di docker che è l'installazione delle librerie è lenta rispetto a copiare semplicemente il mio codice nel container quindi deve essere fatta il prima possibile avrei potuto fare una cartella src in cui aggiungo solo quella installo le librerie e poi faccio andare tutto ma avrei avuto lo svantaggio che se modifico una riga nel main quello che succede sempre mentre aggiungere librerie succede più di rado magari non tutti i giorni e mentre aggiungere cambiare una riga nel main succede sempre quindi succederebbe che io cambio una riga nel main e lui deve di nuovo ristallarsi tutte le librerie quando faccio la build e non voglio che questo accada quindi metto più in alto possibile le cose che faccio meno nella vita più in basso possibile le cose che faccio più spesso bene dopo questo viene buildato in due file e questi due file vengono utilizzati dal docker compose qui l'unica cosa che è interessante uso il docker compose per evitare di ricordarmi io nel comando questa cosa in quello della gpu devo specificare il runtime perché di default se no utilizzo quello di docker in quello senza gpu non specifico niente avrei potuto specificare quello per la cpu in particolare per automatizzare la compilazione e l'esecuzione abbiamo detto che usiamo shovel shovel funziona facendo un file con dei task e abbiamo il task per fare la build utilizzando pcpp perché non cpp perché in questo modo pcpp è la versione del preconcebillatore c che si può installare con il pip in questo modo siamo solo dipendenti da python qualsiasi pc andiamo basta che abbia python per poter buildare e fare tutte le cose in realtà potremmo spingerci oltre ad essere solo dipendenti da docker e quindi fare un docker file che riesce a buildare tutto il resto in questo modo una macchina basta che abbia docker e funziona tutto nell'esempio non l'ho fatto ma è una cosa interessante abbiamo l'istruzione di build effettiva di docker che utilizzando il docker compose e l'istruzione di run creiamo i nostri task con chioccio la task mettiamo la documentazione e chiamiamo le funzioni sopra quindi operativamente cosa abbiamo abbiamo un shovel run cpu e un equivalente shovel run gpu così quando ho fatto le mie modifiche lo eseguo in questo istante ha fatto tutto non ho dovuto aspettare niente per la compilazione perché aveva già tutto compilato e anche se ha già tutto eseguito anche se avessi cambiato solo una riga del main mi avrebbe fatto comunque aspettare pochissimo in questo momento si sta scaricando i dati per fare per fare il train perché abbiamo messo l'istruzione invece di avere il csv il locale abbiamo usato l'istruzione che li scarica dal dataset minist quando finisce di scaricarli quindi qui siamo già nella fase di esecuzione del nostro codice fa la nostra build ci dà dei risultati pessimi perché abbiamo pochissimi dati e un altro task che secondo me è fondamentale da utilizzare è l'exec che ho implementato appunto per andare in bash sul nostro container e qui vedere il nostro codice per fare delle prove manuali e seguire il nostro script e fare ciò che vogliamo un'altra cosa che potrebbe essere interessante in dev soprattutto se abbiamo un server Django in cui continuiamo a cambiare i file html non voglio neanche ristartare Django posso farlo utilizzando i volumi però questo solo in dev non è molto interessante un utilizzatore di docker magari lo conosce già quindi risultati riusciamo a gestire questi file senza duplicati e a scalare possibilità di sviluppare su cpu e adesso con estrema certezza sono sicuro che il mio script funzionerà anche su gpu la possibilità anche in produzione magari non ho infiniti soldi per avere infinite macchine in gpu ma ci sono dei momenti di picco in cui ho bisogno di avere più traffico perché fanno più richieste una volta che ho già pronto il container per cpu perché non tirarlo su sarà più lento a rispondere di quello con gpu però piuttosto che perdersi la chiamata per timeout a rispondere piuttosto posso scalare su gpu e su gpu a scelta trovate il codice sorgente a quel link ho finito se avete domande domande? quando scala ti è capitato di scalare nella tua esperienza su che cosa? su server fisici? su un cluster kubernetes che sottoveva server fisici ma google cloud no era fatto in casa una roba vostra sì io non ho perplessità un'altra domanda se posso visto che il container esiste ho visto che hai la proposta tua è ogni volta che voglio modificare il mio modello il main conterrebbe il modello il mio codice tensorflow se volessi cambiare dei parametri ogni volta faccio il build del docker giusto? o in che senso cambiare dei parametri? cioè per esempio a destra una rete neurale scelgo tre layer con dei hyper parameters e lancio il build giusto? poi mi accorgo guardo il risultato e modifico questi parametri e rilancio il build non c'è un modo tipo di lasciare in vita quel build modificato insomma ecco quello che ho detto alla fine è per per evitare questa cosa in dev più che altro più che in produzione perché poi in produzione il nostro container spero che nessuno vada a toccarlo a manina in dev si possono utilizzare i volumi di docker io posso entrare nel mio docker file con l'exec e mettere il mio file come un volume sul file fisico in questo modo appena faccio una modifica per magia è anche di là e puoi anche sfruttare l'integrazione con l'IDE in questa cosa c'è per esempio PyCharma già l'integrazione con docker e ti semplifica tutte queste cose schiacci solo run quindi normalmente quando fai dev fai questa cosa sì quando sono in dev uso il volume cioè lasci il docker cpu e il docker cpu accesi ti condividi cioè fai il volume sì e lavori su quel volume condiviso esatto e poi lanci ok o da shell o da l'IDE e sul tuo computer dove sviluppi comunque c'è una nvidia che sviluppo sviluppo solo su cpu e dato che ho fatto questo giro sono sicuro che quando andrò a buildarlo sulla macchina reale che non ho mai sotto mano tranne quando voglio fare esecuzioni pesanti allora so che lì funzionerà quindi si può fare anche se non ho una nvidia sul computer dove sviluppo sì solo che quando devo ricordarmi che quando vado sul pc con la nvidia devo fare la build di nuovo non l'ho potuta fare io grazie ciao due domande la prima è quanti contende sei riuscito a far spawnare diciamo in questo metodo senza riscontrare problemi diciamo troppo grandi e la seconda è se ci fai un esempio pratico di una situazione in cui serve tanta potenza di calcolo parallela così all'improvviso perché di solito il calcolo parallelo si ottimizza su ricerche cose che tu conosci a priori date sette normi diciamo non trovo un esempio pratico in cui ti serve al volo allora ripesiamo la prima domanda quanti container riesco a gestire in questo modo quanti container riesco a gestire intendi su una macchina o su un cluster su un cluster su un cluster io in realtà sono arrivato a tre perché ho solo tre gpu ovviamente la gpu non è come la cpu se uno la sta utilizzando non può utilizzarla anche un altro non la puoi utilizzare come la cpu un po' uno un po' l'altro finché non ha finito l'altro non può partire quindi lo scalo il fatto di scalare in gpu dipende da quante gpu hai fisicamente lo scalare in gpu invece quello posso farlo molto più tranquillamente il caso invece non so se con questo rispondo alla prima domanda il numero alla fine di scalatura che puoi avere è il numero di gpu che hai testato su massimo 3 però in teoria si scala su quante gpu hai il caso in cui mi dici in cui devo scalare e non me lo aspetto appunto io lavorativamente faccio un'intelligenza artificiale che estrae delle informazioni date delle altre informazioni non so come spiegare ho del testo o delle immagini e devo estrarre delle cose da queste informazioni quello che succede è che vengo chiamato tramite API vengo chiamato con mille offerte per volta con chiamate che durano magari tipo per due ore di fila mi bombardano di chiamate in ogni chiamata mi dicono mi danno mille dati e mi dicono di fare questa cosa questo succede per due ore al giorno il resto del giorno il mio server non lo usa nessuno quindi in quelle due ore cioè nessuno quasi comunque poche chiamate in quelle due ore ho bisogno di scalare e scalo anche su cpu perché non ce la faccio fisicamente a poter gestire tutto quel carico su cpu scalo rispondo alle richieste quando vedo che il mio traffico si è abbassato con docker mi viene facile fare scale e poi downscale quindi le tiro su un po' di più e poi ne tiro giù grazie altra domanda a posto grazie mille grazie Nicola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti